Gran Guignola l'italiana, giovedì 12 novembre e venerdì 13 novembre al ridotto del Teatro Comunale sarà il prossimo spettacolo del cartellone del Teatro Stabile d'Abruzzo. Gran Guignola l'italiana di Vittorio Franceschi per la regia di Alessandro Dalatri con Lunetta Savino e con Umberto Bortolami, Carmen Giardina, Sebastian Gimelli Morosini e Andrea Lupo tutti a presentare lo spettacolo di fronte al folto pubblico al Palazzetto dei Nobili. Grossolanità, cinismo, squartamenti e lacrime da cronaca nera, Eros e Bordello a infarcire un drammone popolare senza lieto fine. Nella Francia di fine ottocento il Gran Guignola era tutto questo, un miscuglio non molto amalgamato di tinte fortissime, farsesche, macabre e cianfrusaglie, talmente paradossale da essere a volte involontariamente comico. L'ideale per raccontare l'Italia tendente allo zero di oggi. Alessandro Dalatri riscopre questo attualissimo testo scritto da Vittorio Franceschi. Porta così sul palco un innocente colf depressa, un salumiere di successo, una guida turistica ignorante con una moglie fedifraga esterica, un postino sensibilmente gay. Corna, liti, strafalcioni, soldi come nelle migliori famiglie con un immancabile coup de théâtre finale. C'è anche un cane che abbaia spesso, però non entra mai in scena.